Pescatore algherese salvato dalla guardia costiera. L'uomo di 70 anni si trovava a bordo della sua imbarcazione, in prossimità di Capogalera, quando il personale della Capitaneria da terra ha notato che la barca andava alla deriva a causa di un'avaria del motore. Gli uomini del tenente Badano, con la pilotina CP559, sono immediatamente intervenuti e hanno trainato il natante sino al porto. Nessuna conseguenza per il pescatore.